Ciao, sono Giorgio, libraio della Confraternità dell'Uva, libreria Wine Bar in Via Cartoleria a Bologna. Siamo una libreria indipendente, luogo di organizzazione di eventi. Ovviamente da quando è iniziata la pandemia ci siamo trasformati e invece di contenitore culturale siamo diventati libreria su biciclette. Andiamo in giro per Bologna a consegnare libri e vini alle persone che ce li chiedono. Il primo romanzo di cui vi parlo è Giovanissimi di Alessio Forgione, pubblicato da NN Editore. Il 21 febbraio fu la nostra ultima presentazione prima dell'inizio del lockdown. Giovanissimi è un racconto di stampo quasi pasoliniano, una sorta di moderno ragazzi di vita sulle periferie napoletane, ma più che altro sull'assenza dello Stato nella periferia, non tanto. L'Hot di Brian Washington è il libro che vi consiglio del 2020. Lui è un giovanissimo autore afroamericano, classe 1993. Sono una serie di racconti omogenei e legati tra di loro che raccontano anche in questo caso la periferia però di Houston. Uno dei più grandi autori italiani è Elvis Malai, che è uno scrittore albanese che scrive in italiano, trasferitosi in Italia a 15 anni. Ha la sua prima prova con un romanzo dopo una bellissima raccolta di racconti che lo ha portato allo strega e il racconto di Uykan, un giovane ragazzo che nel momento in cui decide di arrivare in Italia non riuscirà mai ad arrivarci perché il mare è rotondo e ogni cosa lo riporta sempre in Albania. La mischia di Valentina Maini, edito da Bollati Boringhieri. Valentina è un'amica della libreria e ci teniamo a proporlo perché è uscito appena all'inizio del lockdown, quindi ha avuto una vita editoriale abbastanza sfortunata. È la storia di Goran e Joaquin, due gemelli, ed è ambientata tra Bilbao e Parigi. È il romanzo che ha vinto il primo posto della classifica di qualità dell'indiscreto. Altro ripescaggio è La parte del fuoco di Marco Rovelli, edito per Terra Rosse Edizioni, un romanzo in cui si uniscono due destini diversi. Si parla di depressione, si parla alla stessa maniera di immigrazione. Sembrano due tematiche molto lontane tra di loro, ma grazie alla magia della narrativa e della letteratura tanti temi diversi possono essere affrontati contemporaneamente.